se sei una mamma o meglio una neomamma butta via l'orologio io lo faccio ho davvero poco tempo il mio bimbo neonato che ha appena due mesi due settimane è imprevedibile come tutti i neonati del resto e nonostante io sia una persona in generale che rispetta gli orari degli appuntamenti delle visite eccetera con il bambino così piccolo con tutte le esigenze che ha posso anche sforare l'orario determinato l'orario dell'appuntamento infatti il mio bambino all'ultimo minuto vuole per dire mangiare ce l'ho già messo nel suo passeggino e inizia a piangere perché ha fame oppure deve essere cambiato eccetera eccetera a volte anche cambiato dall'a alla z pannolina più vestito quindi uno perde tempo a fare questo tipo di operazione per cui programmare sempre con un certo anticipo le visite appuntamenti vari dal pediatra dal medico in ospedale eccetera è una buona cosa naturalmente però non sempre si può fare non sempre si può essere degli orologi svizzeri arrivare proprio all'orario non so alle 9 in punto alle 11 in punto alle 10 e 30 in punto eccetera e e quindi insomma diciamo un po fanculo all'orario l'orologio dovrebbe servire solo per programmare la giornata i vari impegni della giornata che si ha con il bambino ma con il neonato ricordatevi che l'uso dell'orologio che lo mettiate al polso sul cellulare si modifica proprio in modo radicale quindi questo accade perché i tempi cambiano le ore si allungano e tutto quello che uno ha mente di fare in un giorno non riesce a farlo la nostra vita come mamme come donne cambia radicalmente magari non riusciamo a fare la spesa e in quel determinato giorno quella determinata ora dobbiamo posticipare così come l'appuntamento dall'estetista o dal parrucchiere e così via questo accade perché naturalmente l'attenzione la nostra attenzione è tutta rivolta a questo piccoletto che abbiamo sempre da curare tutto il giorno e alle sue esigenze quindi care mamme care neomamme care mamme di neonati buttate via l'orologio fate di questo strumento che naturalmente è necessario un uso limitato nel senso che non vi deve rovinare le giornate oppure aumentare l'ansia e lo stress nel seguire il proprio piccoletto il proprio figlio quindi utilizzatelo con intelligenza con parsimonia senza che questo senza che l'orologio abbia purtroppo il potere di farvi diventare ulteriormente stressate ciao arrivederci